Il senso di festeggiare la festa della mamma, unicamente se noi poi negli altri 364 giorni dell'anno ci ricordiamo che alle mamme, alle donne, ai genitori in generale, ma alle mamme in particolar modo questa nazione deve tantissimo e non sempre se ne rende molto. Ancora oggi Fratelli d'Italia, in tutta Italia, con i suoi banchetti, con le sue iniziative, continuano a chiedere iniziative a sostegno della natalità, a sostegno della maternità, che purtroppo sono ancora assenti anche nella PNRR, anche nelle scelte del governo Draghi, come nelle scelte dei precedenti governi. Dall'aumento dei costi nasi di nido, passando per il sostegno alle mamme autonome, arrivando al tema dei congeni parentali, del loro potenziamento, fino anche ai ristori che secondo noi devono essere valutati anche sulla base della composizione del nucleo familiare, non ci sono risposte per le famiglie, non ci sono risposte per le mamme. Questo ovviamente porta ad avere quest'anno un altro record negativo di nascita dall'unità d'Italia e porta anche a uno dei livelli più alti di preoccupazione femminile in Europa, per l'assenza di servizi. C'è una cosa che questo governo, dal suo punto di vista, ha fatto per il posto? Su questo tema o in generale? In generale, su altri temi del dibattito politico di questi temi. Ma guardi, ci sono delle cose che io ho condiviso, non foss'altro, insomma, l'iniziativa di qualche giorno fa, anche se poi non si è capito se davvero andrà in porto sul tema dei terroristi che erano ancora in Francia, sulla quale il Presidente Draghi ha lavorato insieme al Presidente Macron, mi pare una cosa molto ben fatta, almeno insomma all'inizio. Noi abbiamo sempre tentato di dare una mano. Nel PNRR ci sono anche cose che condividiamo. Avremmo voluto, infatti di fare di più, avremmo voluto che il Parlamento sul piano che investe 150 miliardi avesse, diciamo, tre giorni per dire la sua. Però quando invece le cose non vanno bene, e per esempio su questo tema del sostegno alla famiglia, alla natalità, all'incertivo alla maternità, mi pare che insomma siamo abbastanza indietro. Nel PNRR le risorse che vengono destinate agli asili nido, per paradosso rispetto a quello di Conte, diminuiscono, perché sono 4 miliardi ma ci sono dentro anche il po' le infanzia. E quindi cerchiamo di fare delle proposte su quelle che riteniamo essere delle priori. Secondo lei sulla questione riforma della giustizia, Lega e Partito Radicale fanno bene a iniziare questa loro iniziativa, scusi, questo c'è di Marone con il referendum? Ma guarda, a me sembra un'iniziativa interessante, sicuramente la giustizia è un tema che da noi non può essere rimandato e che non deve essere affrontato né su un piano ideologico né come uno scontro tra la politica e la magistratura. Credo piuttosto che la parte sana della politica e la parte sana della magistratura, che sono entrambi, per come la vedo io, maggioritarie, si debbano prendere per mano e debbano capire insieme come si fa a impedire che ci sia un sistema che non riesce spesso a dare risposte sul tema della certezza del diritto, sul tema della certezza della pena con tutto quello che comporta anche sul piano degli investimenti per una nazione come la nostra e poi insomma sicuramente quello che leggiamo sulle cronache circa l'occupazione correntizia della magistratura per un sistema come il nostro non fa svelare. Bisogna metterci la mano. Grazie signora. Grazie a lei. Altri che devono fare domande? A posto. Ho dovuto fare la propria? Ok. Ciao. Che bello questo mio uomo. Ciao. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.